C'è poco da dire, ormai abbiamo parlato abbondantemente del come e perché si formano questi vulcani, l'arco vulcanico si forma dietro la zona di subduzione, segue l'andamento della fossa, segue l'andamento se c'è dell'arco tettonico, se i vulcani si formano nella zona oceanica avranno più facilità a salire, la serie di Bowen sarà meno evoluta, quindi saranno meno acidi, quindi meno esplosivi, se invece il vulcanismo andrà sotto la margine continentale sarà di energia via via maggiore. Questo qui è lo schermettino che abbiamo già visto, abbiamo la zona in sottoscorrimento, il prisma di accrezione qua davanti, abbiamo l'arco tettonico in margine continentale, l'arco vulcanico che si origina dalla deidratazione dei minerali trasportati in profondità che causeranno la fusione parziale dell'astenosfera, questa astenosfera risalerà, arriva a parte a 1500 gradi, via via che sale si raffredda, penetra nella base della litosfera sovrastante, penetra dentro la crosta continentale se c'è, se non c'è, arriva direttamente in superficie sotto forma di edifici vulcanici che saranno, abbiamo visto in genere, piuttosto energetici, piuttosto nervosi. Ecco, questo è il tipo di vulcanismo che si è caratteristico delle zone di subduzione, questa è una eruzione del pinatubo, è credo sia 1991, è un'eruzione che ha fatto dei bei danni, poi vedremo meglio sui vulcani e sul rischio vulcanico cosa ci si può aspettare in queste condizioni. Questo invece è lo stromboli, lo stromboli è esattamente lo stesso tipo di vulcanismo, è un vulcanismo dovuto alla subduzione della litosfera ionica sotto l'arco calabro e sotto il mare, il mare tirreno. La differenza tra lo stromboli e il vulcanismo, in questo caso del pinatubo, delle ande o di Java, è che la risalita dei magmi nella stenosfera non incontra della crosta continentale, quindi, pur essendo ricca in gas, in fluidi, in acqua, quindi lo vediamo, questa forza esplosiva che è perenne, che continua a sputacchiare i suoi getti di lava con grande felicità dei turisti e delle guide turistiche che si fanno pagare per accompagnarvi a vedere questo spettacolo meraviglioso, la lava non sarà troppo ricca in silice, quindi sarà una lava mediamente viscosa e quindi il degassamento del magma sarà praticamente continuo, poco distante però, tanto per non tranquillizzarci troppo, ci sono questi, questi sono i campi flegrei, i campi flegrei è un classico magmatismo che si imposta sotto una crosta continentale, in questo caso la crosta dell'Apennino dell'Italia, che si è formata con la subduzione di quell'area oceanica che una volta era nel mare Ionio e quindi accumula questa grande quantità di energia e ogni tanto dà una esplosione veramente grande. Vedete quante caldere di eruzione ci sono, tutte quelle cose tonde che sembrano stati sono, boom, le caldere dovute a queste eruzioni, eruzioni gigantesca che hanno seminato tuffi, prodotti piroclastici, cioè materiale iettato su metà della penisola, sono arrivate anche in Calabria ed in Sicilia, tipo di attività qualcuno ha coniato il termine di supervulcani. L'elemento fondamentale del supervulcano non è tanto la lentità dell'esplosione ma il fatto che siano molto diradati nel tempo. Parliamo di decine, decine di migliaia di anni. I Campi Pegrei hanno dato una gigantesca, una supereruzione, chiamiamola con questo termine brutto ma televisivo, una supereruzione 17.000 anni fa proiettando il tuffo giallo rapoletano e un'altra supereruzione 35.000 anni fa e hanno in questo caso liberato un altro deposito che si chiama Inimbrite Campana, che è quella con cui vengono fatti i cubetti di porfido con cui si fa la pavimentazione stradale. Ma sotto i Campi Pegrei, dove c'è tutta questa manifestazione qui, c'è una camera magmatica molto grande. Eccola qua, quella è la camera magmatica che alimenta il sistema superficiale, c'è una serie di camini dove le lave arrivano fino a poche, fino a un paio di chilometri di profondità, arrivati qui arrivati e poi si fermano, cominciano a raffreddare, raffreddandosi si formano dei minerali, come si formano dei minerali seguendo la prosa solita serie di Bowen, si differenziano il più possibile in senso acido, via via che i minerali si formano, quindi via che aumenta la parte solida, i gas si concentrano nella parte che è rimasta fusa e quindi concentrandosi aumenta la pressione dei gas e in questo caso il golfo di Pozzuoli si alza, si alza, si alza e fa quel fenomeno conosciuto in tutto il mondo con il nome di bradi sismo, vuol dire terremoto lento, sisma lento, il bradipo perché va piano piano. Allora, questo movimento a un certo punto può arrivare a fare un'esplosione, a fare un'eruzione, una volta che si forma un'eruzione, si leva il peso da sopra, si forma così la supereruzione, ma la maggior parte del magma rimane dentro la camera magmatica, perché è molto viscoso, non ha ed è leggero tanto quanto le rocce incassanti, sempre rocce di origine siali che assiano, quindi non ha grande tendenza alla ressalita. La maggior parte del magma si consoliderà poi nella camera magmatica. Questo magma che si consolida nella camera magmatica dà l'origine poi a quelle che si chiamano batoliti, cioè delle enormi sequenze, delle masse molto grandi di magma di roccia, oramai è diventata roccia di tipo granitico, ed ecco perché diciamo che i graniti e i loro parenti, chiamiamoli granitoidi, sono le rocce più abbondanti, le rocce che costituiscono gran parte del Sial, gran parte della crosta continentale. Questa è l'isola d'Elba, l'isola d'Elba è un antico complesso vulcanico, ce ne sono tanti nella Toscana meridionale, questi complessi magmatici poi interagiscono con le rocce incassanti, formano delle mineralizzazioni in genere a solfuri. La Toscana è ricca di questi grandi complessi di graniti, grandi batoliti, e quindi è ricca anche di mineralizzazioni. Ricordo tutta la metallurgia degli Etruschi, la Toscana metallifera è nata proprio intorno a queste mineralizzazioni. Questo è il Monte Capanne. Il Monte Capanne è, diciamo, la parte più ovest dell'isola d'Elba, il Monte Capanne è appunto un batolite di tipo granitico, una massa granitica, si chiamano anche plutoni, perché sono consolidati in profondità, dove c'è il signor Plutoni appunto. Questi plutoni poi dopo si consolidano in profondità, avranno delle rocce molto massive, queste rocce poi verranno a galla con l'erosione e spunteranno come delle montagne. Se non vi piace il Monte Capanne, vi sembra troppo piccolino, ecco, mettiamoci il Monte Rosa. Il Monte Rosa è un batolite o un plutone granitico, che una volta costituiva una camera magmatica nelle radici della catena alpina. L'orogenesi alpina è più antica di quella appenninica. In questo caso è un granito vero e proprio, lo dice il suo nome, Monte Rosa, perché è fatto di granito. Il granito è una roccia olocristallina, perché raffreddandosi lentamente i minerali crescono, si sviluppano completamente, al contrario di quanto succedeva nei basalti, dove il raffreddamento era molto rapido, molto veloce, quindi si congelava all'istante, si trovavano dei fenocristalli che si erano già formati nella camera magmatica, e poi il raffreddamento in superficie faceva sì che la lava diventasse praticamente vetroso o microcristallina. In questo caso invece il magma raffredda molto lentamente e fa tutti i suoi minerali, che saranno quelli nella parte alta o bassa, a seconda di come la volete disegnare, della serie di Bowen. Allora, quella parte più grigia, che in realtà è trasparente, è il quarzo. Le pippoline, le placchette bianche, sono i plagioclasi, le plaghe rosa sono i k-felspati, cioè i felspati potassici. E poi ci sono delle micche, micche bianche e micche scure, in questo caso è abbastanza ricco in metalli, e infatti intorno al Monte Rosa c'è poi, per interazione di questi magmi con le rocce incassanti, generalmente con le rocce carbonatiche, dal luogo a mineralizzazioni, che si chiamano mineralizzazioni di contatto. Ecco, questo è un classico. Granito, se poi invece del k-felspato, cioè più plagioclasi, si chiamerà grano di iorite, perché sarà un poco più basica la reazione, e allora sarà un sale e pepe sul bianco, eccetera, però tutti insieme queste rocce le chiamiamo rocce granitoidi. Allora abbiamo detto che questo magmatismo si forma per liberazione di acqua, fusione passiana dell'astenosfera, entrerà nella crosta, si contaminerà con la crosta, cambierà composizione sia perché assimilerà delle rocce crostali, in realtà la crosta continentale, sia perché evolverà nella serie di Bowen. Dietro si può formare o non formare un bacino di retroarco. Abbiamo visto che il bacino di retroarco si forma se il sistema arretra, facciamo da qua, arretra verso ovest, e abbiamo visto che questo arretramento viene spinto, generato dal flusso del mantello, favorito quantomeno dal movimento differenziale del martello da ovest verso est, rispetto al guscio più esterno. Nelle subduzioni viceversa emergenti da ovest verso est, questo tipo di estensione a retroarco è molto limitata e poi ci saranno i casi intermedi come quello della fossa delle Aleutine dove il sistema, dove c'è la penisola dell'Alaska, dove il sistema va verso nord. I casi estremi sono proprio quelli sull'uno, sull'altro lato dell'oceano Pacifico, ma non ci sono solamente quelli. Questo è un po' il motivo per cui si imposta questa zona di estensione, il cuneo del mantello spinge la stenosfera e fa arretrare verso est. Gli elementi sono sempre i soliti, avampaese, avanfossa, prisma di accrezione, arco vulcanico, eccetera. È ovvio che se il sistema arretra verso est, il margine continentale si spacca, si rompe e migra seguendo la fossa in rollback, l'arco tettonico non si formerà perché non ci sarà quell'accumulo di elementi di costa continentale. I bacini di retroarco, questo qui l'abbiamo già visto, non ne possiamo più. Il mare della fossa del Giappone, l'avanpaese, l'avanfossa, l'arco vulcanico del Giappone che è prevalentemente vulcanico, ma il Giappone una volta stava attaccato alla Cina, il mare del Giappone si è aperto negli ultimi 10 milioni di anni, anche in questo caso, con un'apertura, un arretramento di circa 10 centimetri all'anno. Se ci siamo scocciati di guardare sempre il mare del Giappone, guardiamoci questo invece. Questo è l'arco dei Caraibi, va bene? C'è la zona di sostruzione, poi abbiamo la Haiti, poi c'è Cuba, eccetera, e poi da quest'altra parte la parte settentrionale del Sud America, poi abbiamo quest'altra parte Suez, eccetera, eccetera. Allora, vedete che abbiamo una fossa, abbiamo un'area oceanica, prima di tutto, vecchia, abbiamo una fossa, una fossa ci indica che l'avanpaese oceanico sta flettendo, si sta piegando, questo piegamento, come nel caso del Tirreno e del Giappone, delle Filippine, delle Marianne, della Nuova Zelanda, causa l'arretramento dell'arco di subduzione verso est, perché c'è di nuovo il mantello che ce lo spinge, il solito mantello è sempre lui, questo arretramento causa l'espansione di un bacino marginale di retroarco, cioè di un nuovo oceano che si sta aprendo. Siccome i due blocchi americani rimangono fermi mentre questo sistema si sta cominciando ad aprire, sia a nord che a sud abbiamo degli elementi di scorrimento orizzontale. Questi elementi di scorrimento orizzontale si chiamano faglie trasformi, sono spaccature verticali che interessano tutto lo spessore della litosfera, arrivano ovviamente a scorrere alla sommità della stenosfera, vengono chiamate strutture trasformi, qualcuno le chiama anche binari litosferici perché sono proprio come due binari che guidano l'avanzamento della catena. Come potete vedere dalle due freccine che danno una coppia opposta sopra e sotto possano essere destre e sono quelle sotto oppure sinistre e sono quelle sotto. Va bene, ma perché si sta formando questo tipo di subduzione? Abbiamo detto fino ad ora che l'oceano atlantico si stava allargando e spingeva i due continenti verso il margine pacifico. Guardiamo la nostra mappa di riferimento che è come sempre la mappa dell'età dei fondali oceanici che è quella che ci dà la spiegazione di ciò che avviene perché ci dice le zone dove c'è dell'energia da spendere. Allora guardiamo le zone blu le zone blu sono quelle dove l'alitosfera oceanica è vecchia è vecchia è fredda e quindi ha dell'energia potenziale da spendere anzi sono le zone che devono spendere l'energia che devono sprofondare perché non sono più in equilibrio gravitazionale quindi una volta che noi abbiamo aperto un continente questo comincerà ad andare in subduzione la subduzione comincerà dalle aree più pesanti e quindi le zone più vecchie cominceranno ad andare in subduzione la subduzione comincerà sempre sul bordo dei continenti e infatti la subduzione in questo caso è cominciata tra le due americhe quella zona che ora è occupata dalla freccia e dove l'arco sta avanzando era 10 milioni di anni fa era una zona blu come quella del margine del margine nordamericano bene questa zona blu sta sprofondando comincio a sprofondare dietro questa zona si è aperta un bacino di estensione retroarco e la mia arco di subduzione è avanzato fino a metà dell'oceano atlantico un bel pezzetto avanti nell'oceano atlantico non si può non vi è motivo per cui una subduzione debba incominciare tra due placche oceaniche quindi quando noi diciamo tra i vari modelli di subduzione c'è quello oceano 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 continente 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 quello oceano oceano non può iniziare così è una fase transitoria obbligata dell'evoluzione di un margine cioè succede solamente in un margine continentale verso ovest perché è quello dove la subduzione poi potrà arretrare verso est e quindi una parte del margine si staccherà e la seguirà come il caso delle Filippine come il caso del mare Tirreno che succederà domani succederà che anche quella parte azzurra andrà in subduzione e il nostro sistema si sposterà tutto verso est il nostro bacino marginale diventerà un oceano sempre più largo l'oceano atlantico si sposterà tutto in massa verso est tutto l'oceano seguirà il movimento verso est ed andrà a scomparire sotto quello che è il margine nordafricano il margine nordafricano diventerà un margine di subduzione prima si mangerà tutta quella litosfera oceanica azzurra prima la più pesante e poi piano piano arriverà a mangiarsi anche la dorsale oceanica esattamente come sta succedendo nell'oceano pacifico la dorsale pacifica è arrivata a collisione con il bordo delle montagne rocciose la subduzione si è molto rallentata nel frattempo anche i movimenti di convezione si fermeranno perché la cella di convezione che sta sotto la dorsale oceanica si sposterà e riprenderà un'altra cella di convezione su quel bacino marginale che nel frattempo si sarà allargato sarà diventato il nuovo oceano atlantico quindi dentro l'oceano possiamo avere tutta una serie di celle convettive ma non arriveremo mai ad avere dell'olitosfera oceanica più vecchia perché a un certo punto andrà in subduzione le subduzioni che immergono verso ovest saranno trascinate dal flusso del mantello verso est e libereranno lasciando spazio dietro per nuovi oceani eccoci qua lì avremo una subduzione di tipo ande sul lato settentrionale dell'africa tutti gli elementi che abbiamo visto si ripetono seppure in piccolo nelle nostre zone nel nostro sistema appennino arcocalabro e tirreno abbiamo una subduzione di tipo marianne est vergente nell'arco calabro che avanza verso l'ionio l'ionio sprofonda l'arcocalabro lo segue in rollback e dietro si apre il mare il mare tirreno il micro oceano tirreno al momento l'appennino invece è arrivato a collisione continente continente quindi le piattaforme dell'appennino si stanno arrampicando sopra il margine continentale adriatico formando un arco tettonico una catena a falle di ricoprimento una catena montuosa non è sempre stato così perché qualche milione di anni fa quando il mare tirreno non si era ancora aperto o si stava aprendo il mare ionio era più grande infatti parliamo in realtà di oceano ionico adriatico e arrivava almeno almeno fino all'altezza di Ancona di Ancona la Puglia fa parte delle piattaforme adriatiche quindi stava in continuità con la piattaforma dinarica adriatica e istriana tra le due c'era un cuneo un braccio oceanico che separava le piattaforme adriatiche dall'appennino che stava avanzando via via che questo sistema avanzava si mangiava la la sua crosta oceanica ionico adriatica che si infilava sotto che si è infilata sotto l'appennino e ora questa crosta oceanica la trovo in perforazione ed è uno degli elementi di riferimento per i petrolieri tra l'altro perché costituisce un setto impermeabile tra le piattaforme che invece sono la sorgente la zona di origine degli idrocarburi voi sapete che per avere un deposito di idrocarburi non è sufficiente avere una roccia madre come i calcari una roccia porosa ma è necessario avere anche un cappello impermeabile che impedisca agli idrocarburi di disperdersi questo cappello è formato in appennino proprio dal vecchio oceano che ora è in subduzione compreso tra le piattaforme apule che stanno scendendo sotto l'appennino e l'edificio a falda dell'appennino vero e proprio quindi se io vado a bucare la val d'agri buco le unità carbonatiche dove non c'è più niente buco l'oceano ionico e finalmente sotto trovo altre piattaforme che sono invece delle concentrazioni di idrocarburi che sono rimasti lì conservati questo estremità settentrionale dell'oceano ionico lo incontro in affioramento in finestra tettonica al lago negro quando ci permetteranno di prendere la macchina e andare verso la calabria passando all'altezza di lago negro vedrete una serie di superfici lucenti filladiche con strati molto sottili vedete anche una serie di frane qui ogni tanto vedete i viadotti della tua strada che franano bene quello è l'oceano ionico che è entrato sotto la catena appenninica quindi è entrato sotto il gran sasso sotto le falde molisane che esce nella zona di lago negro quindi noi parleremo di oceano ionico lago negrese ricordandoci che al lago negro emerge dal crosto oceanico ma emerge da sotto la catena appenninica bene questo movimento durante quando era attivo questo movimento di subduzione dell'oceano ionico lago negrese e la penisola italiana stava ancora dondolando facendo il suo movimento di rotazione anti-oraria per andare a collidere con l'adriatico sul fronte della catena appenninica c'era una vanfossa perché c'era un oceano lì sotto e in questo in questa vanfossa andavano a depositarsi i flish i flish che ora coprono tutta la successione appenninica dov'è che una collisione è già in atto è tra la penisola arabica e il continente europeo vero e proprio abbiamo che si stanno avvicinando le due masse continentali questa una parte della catena è già fatta è quella del del caucaso vedete la carta della della sismicità che è quella quadratina in alto come sono come è ben evidente la quantità di sismicità in quell'area la sismicità ci dà proprio l'indicazione dei movimenti tra le tra le varie tra le varie placche vedete che c'è una in Turchia c'è sono due o tre rami particolari di di movimento che poi in realtà corrisponderanno ad una serie di faglie trascorrenti allora la penisola arabica va a spingere contro contro la la penisola anatolica contro il caucaso si formeranno una catena di montagne abbiamo da una parte il mar nero il mar nero è un sistema praticamente come il mediterraneo è crosta oceanica quindi anche il mar nero va a sprofondare andrà a scomparire a est del mar nero si sta formando un'altra catena quella catena i carpassi fanno esattamente come sta facendo l'arco cabro vanno in subduzione e si mangiano tutto l'avan paese oceanico che in questo caso è il mar nero è parte della placca della pianura pannonica la Turchia la penisola anatolica invece avanza verso ovest in parte perché è spinta dalla collisione dell'Africa in parte perché è richiamata dalla subduzione della dell'alitosfera ionico levantina sul fronte sul fronte dell'ellenico e sul fronte del levante cum amante eccetera quindi questa serie di movimenti sono le movimenti di chiusura e collisione di un oceano perché c'è un oceano che può scomparire in superficie in profondità quando poi arriveremo a avere collisione delle diverse unità continentali le une sulle alte queste si accavalleranno formeranno una catena a falde cioè una montagna costruita da tanti mattoni le une sulle alte questi mattoni in buona parte saranno i mattoni dei margini dei due continenti cioè le piattaforme carbonatiche di diversa età a seconda di diversa età di espansione dei bacini marini qui vengono indicate le catene montuose con colori particolarmente evidenti qui abbiamo l'india quindi l'himalaya l'altopiano del tibet su questo lato si va verso il il caucaso e poi si prosegue verso nord c'è il mar nero eccetera quando le masse continentali arriveranno a collisione saliranno le une sulle altre e vediamo che dietro dietro l'india dove la collisione è arrivata ormai ad essere completa abbiamo la catena montuosa più ampia del pianeta l'himalaya sta ancora completando la sua collisione perché abbiamo ancora dei lentissimi movimenti di avvicinamento di alcuni millimetri all'anno ma che sono sufficienti a dare ogni tanto qualche bel qualche bel terremoto una catena tipo l'himalaya poi si formerà lungo tutta la sutura Africa Europa e noi ci saremo esattamente nel mezzo questa qui è la migrazione dell'india fino a formare la catena himalayana qui vabbè questo è schematizzato si consuma l'area oceanica si avvicinano le due masse continentali si forma un prisma di accrezione sul sul bordo fino a che si arriva la collisione vera e propria quando le due masse continentali saranno a contatto la subduzione cesserà almeno fino a che le radici continentali arriveranno a una profondità in questo caso 60-70 km ma più giù non possono scendere perché sono leggere e se avremo una subduzione di tipo attivo perché la spinta dell'India è quella che mantiene che ha causato il sollevamento a una subduzione che vi ricordo l'avevo chiamata di tipo Ampfeffer che è quanto avviene sul bordo europeo delle Alpi in tutta questa roba qui ogni tanto qualche pezzetto di quello che era l'oceano che separava queste due masse continentali in avvicinamento viene coinvolto nell'eurogenesi quindi dove la sutura tra Appennino ed Alpi è marcata da una serie di allineamenti di quello che una volta era la Tetide qui siamo in Calabria questa è la timpa delle Morge quelli sono i nostri studenti credo del primo anno in cui siamo venuti qua quindi lì probabilmente avremo Stagnini eccetera questo è un frammento di Grosso Oceanica che è conservato tra la Calabria Alpina e l'Appennino Meridionale e questo marca che lì in quella sutura si è verificata la sutura proprio lo spiaccicamento delle due masse continentali allora cosa succede su un margine convergente succede che da una parte abbiamo una placca che scende e forma una fossa il professore Ferrini vi avrà certamente detto che una fossa è uno spazio sedimentario è un buco che è lì chi aspetta di essere riempito da sedimenti prima o poi ogni buco sarà riempito abbiamo un buco vero abbiamo un buco che può essere migliaia di metri di profondità dall'altro lato cosa abbiamo abbiamo una margine continentale un margine di placca che è generalmente continentale che comincia a salire e comincia a formarsi l'arco tettonico la deformazione coinvolge coinvolge il margine e il margine comincia a salire il monte velino si 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 il monte si renta sul granzasso, il granzasso sulla maiella e quindi cresce, 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 cresce. Crescendo cosa fa? Erosione. Bene? Si altera, fa erosione, produce una grande quantità di sedimenti e guarda caso qua c'è un buco pronto da coglierli. Quindi il margine orogenetico è caratterizzato da sollevamento, grande erosione e grande sedimentazione. Una fossa elettronica che può essere profonda a 5, 6, 8 mila metri accoglie una enorme quantità di sedimenti. Questi sedimenti sono finalmente, ci siamo arrivati, i famosi flish che hanno di particolare che sono un deposito caratteristico di un certo ambiente. Quando si vede un flish vuol dire che c'è in atto un'orogenesi, perché solamente un'orogenesi può mettere in gioco una quantità di sedimenti così grande da formare un flish. Grazie.